400.000 euro dalla regione Abruzzo che gestirà il comune per la riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna dell'Aquila, il circolo più antico d'Abruzzo, nato nel 1930. Il comune dell'Aquila gestirà tali fondi per diversi interventi, una sinergia importante spinta molto dal consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Noi ci siamo, è un segnale importante, è la prima volta che la regione Abruzzo finanzia un impianto sportivo così direttamente, è un segnale, spero che sia l'inizio, di una serie di interventi fatti attraverso dei criteri importanti. Io lo dico sempre all'assessore al comune dell'Aquila, l'Aquila oggi è un patrimonio impiantistico sportivo straordinario, è indispensabile metterlo a sistema per non dispendere le energie, perché oggi gestire un impianto sportivo ha dei costi rilevanti. Riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche, qualificazione del verde, obiettivo rendere veramente questo circolo un vero e proprio punto di aggregazione per la città. Del resto i numeri parlano chiaro, sia a livello di scuola tennis che di agonismo, con la squadra in serie A2 e risultati importanti ottenuti dalla formazione Juniores. E poi puntare un po' sul risparmio energetico, che anche questo in un clima come l'Aquila, per chi fa anche attività sportiva qui, sarà importante e determinante svilupparlo. Sicuramente al ladere di questo ci saranno anche gli spazi sociali per far sì che possa essere ancora di più uno spazio aperto alla città, non solo sicuramente al tennis, e quindi far sì che ci sia una vera clubhouse, un vero servizio di socialità. E questi sono tre punti importanti, cardini dello sviluppo e poi uno spazio ci auguriamo anche per dare la preparazione, avendo una squadra in serie A2 e ulteriori squadri di serie C e di serie D, che sia nel campo maschile e femminile, ci hanno portato negli ultimi due anni a vincere, a essere il primo circolo d'Abruzzo. Per il Comune il lavoro di squadra premia sempre. L'obiettivo a lungo termine sarà di creare in quella zona una vera e propria cittadella dello sport, collegando anche gli altri impianti sportivi presenti. L'obiettivo che ci ponevamo, ne parlavo anche con il consigliere Pietrucci, sarebbe quello di portare avanti un progetto integrato che riguarda tutto il complesso della zona sportiva, quindi con l'annesso del palazzetto di Viale Ovidio, la piscina, sarebbe veramente un sogno creare le condizioni per una cittadella dello sport in pieno centro, avendo a disposizione questi fondi. Questa è la dimostrazione che quando ci si muove all'unisono e soprattutto quando si presentano progetti che hanno valide caratteristiche come questo, si ottengono dei risultati.